Cerca la stampa, doverosamente, attenzione, perché non voglio avere una situazione sviluppa di regalto, o della stampa, io non la so chi siete voi, fate il vostro mestiere, parlo con molti nuovi, ho potuto, qualche volta, sono anche un'altra potenza, una volta è presa di SPS, ma capisco la vostra funzione dentro il campo, però vi permetto di dire, ma sono computabili e sono attaccabili da tutti i turisti e lo riceverei, tant'altro poi i casmai e lo scontro, è un pochino più la stampa che porta a definire una cosa in fretta, senza dire, eh, si sta comparando o realizzando un fallimento. Grazie. Grazie.